Ciao ragazzi, guarda già che cosa c'è come chi sono, volevo fare la prova ma non è uguale, non ce la faccio, scusa ti devo far vedere una cosa troppo forte, ma se dai cos'è che c'hai ancora in giro, questo sembra un previsore, che tanto è sufficiente, questo è il nuovo 705 arco, si ma sei già spento, mi sa che non vale, ma funziona questo asesino qui, eccolo lì, grande, eccolo lì, eccolo che non si accende più, adesso ci metteranno a ripartire come al solito, con questo puoi andare, su internet, puoi vedere i contenuti del portale di arco, puoi registrare dei video, puoi avere dei widget, ci sono anche i giochi, il tempo, tutte queste cose qua, puoi salvare i tuoi file, puoi vedere le tue foto, ascoltare la tua musica e vediamo una demo. Sì, e magari ti fa anche la spesa. Non ancora, non ci siamo ancora arrivati, ma siamo abbastanza vicini. Oh mamma, mamma, queste sono le demo, allora ti faccio vedere l'esempio di, che ne so, dell'internet. Sì, fai vedere quello che funziona su internet, dai. Ok, andiamo un po', sono curioso, cazzo il volume, tutto si ascrive ovviamente, e dopo pochi secondi scompaiono. Senti, la signorina la danno in omaggio con l'oggetto sia la stessa parte. Guardi, io ne ho presi tre a casa, non ho ancora arrivato nessuno. Sto aspettando, prima o poi arriverà il gioco. Oh mamma. Comunque è bellissimo. Sì, no, mi piace. La decisione di schermo che è... E poi un 5 pollici e mezzo così. Guarda di widget, widget sia diventare pazzo. Il questo è stato di me lo vede già mezzo matto. Sì, infatti non sono persone normali. Sì, non sono persone normali. Sì, insomma ti tira un po' matto un oggetto leggero, però è veramente divertente. Senti, dimensioni? Dimensioni piccolissime. Allora, questa è la pennina per il touchscreen ovviamente. Guarda di lato che tutto c'è, qua ci sono i suoi volume, eccetera. Sì, mi sembra bello sottile, qui ce lo infigliamo anche nella borsetta della nostra fidanzata che portiamo in giro. Sì, se no c'è la tua borsetta. No, no, ma io lì, la della fidanzata che è meglio. Ti faccio vedere il cradle molto più veloce. Ecco, se dai veloce che il tempo sta scadendo. Dito bellissimo. Presto, allora, dietro tutti gli ingressi video. Oggi, io, io. Tutti i video puoi registrati da partire con la Playstation. Ecco, a me è un piacere l'alto. Non fa niente, non vedi mica parlare. Ah, ok. E questo è il telecomando. Che è praticamente il frattemunale. Vola, bella, che era QRC per scrivere www e scrivere il sito. Questo è il mouse, invece. Vabbè, così, due clic e capito. Sì, ragazzi, quando avete bisogno di informazioni sono qua. Ciao!